Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Stiamo facendo un po' di colazione, la voce è fatta il solito e comunque... Ti vogliamo andare? Adesso ragazzi, con questa macchinina, ci è trasferito all'aeroporto e dopo andiamo in Porto Cesari, guardate! Ci siamo in aeroporto, guardate! Capito di persone e dopo andremo in aereo e dopo vi faccio vedere, ciao! Ok ragazzi, guardate! 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 Andiamo a Porto Cesari, questi sono degli aeroporti! Guardate che belli! Ragazzi, dopo entriamo in faccio del tutto! Ragazzi, siamo in un negozio! Guardate tutti i negozio! E' bellissimo! E' bellissimo! E' bellissimo! E' bellissimo! Abbiamo un aereo! E' bellissimo! Sto mangiando dell'insalata e dopo i potatini è una sorpresa di Pikachu! Lo devo dopo! Ragazzi, ora delle potatine con le 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 potatine! Ecco il topino! Guardate! E' bella! E' bellissimo! E' buona! Ragazzi, quel topino! Wow! Ho vinto, ovvio o meno, degli amici e un Pokémon hanno vinto! Ragazzi, stiamo andando! E' bella! E' bella! E' bella! E' bella! E' bella! E' bella! All'anno il calco, vai! E' bella! Vabbè ragazzi! E' bella! ragazzi siamo in aereo guardate ed è pregato di posizionare solo i trolley di grandi dimensioni nelle castelliere e tutti gli altri centri come tiny in forse piccole si parte guardate tra un po' si vede tutto il pallonato guardate ci sono gli aerei, un aereo ci ha partito peccato che noi non vediamo cioè ragazzi io sto guardando bellissimo che bello guardate ragazzi guardate siamo in aereo guardate è pieno di persone qui c'è tutto guardate che bello si comincia ci stiamo portando, ci stiamo ruendo siamo andato velocissimo ragazzi guardate 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 Oh, stiamo andando su, è bellissimo! Ragazzi! Lasciate un like e iscrivetevi al canale! E' bellissimo! Siamo in aereo! Se siete pronti a voi, troverete un catalogo! Qui ci sono tutti i nostri prodotti! Vi informiamo che abbiamo il 30% di sconto sui! Tutte le case! E' bellissimo! Qui ci sono tutti i segni! Guardate che bello! C'è un aereo! Guardate! Queste sono le mie scarpe lunghissime! Stiamo in patto! Stiamo sedendo! Sono con mia nonna qui! C'è mia nonna! E siamo andando in aereo a Porto Cesareo! Ma stiamo ritornando! Farò un sacco di video e vi farò vedere tutto! Guardate! Guardate! Siamo in altissimo! E' bellissimo! Ci vediamo! Ci vediamo dopo! Guardate che bello! Ragazzi! No ragazzi! E' bellissimo! Siamo sopra! Siamo sopra le nuvole! Siamo sopra le nuvole! Sapete che la terra... Ehm! C'è... E' ricoperta di nuvole! Guardate! Ehm! Che bello! Uh! Che bellissimo! Wow! Ragazzi! E' stra bello! Cioè! Voi non li immaginate! E' bellissimo! Guardate Guardate Oh no Wow ragazzi Bellissimo Lì c'è il mare No ti stiamo atterrando La prossima volta La prossima volta sarà buio 20-40 Poi guardate Guardate Siamo pritici Ragazzi Ragazzi siamo arrivati Ehm Ragazzi Buongiorn Buongiorno Oh Buongiorno benvenuti alla varie indisi sulle ore 15 e 45 l'antaraggio è venuto con 20 minuti l'antaraggio bellissimo assicurato il vostro effetto internazionale incontro ragazzi siamo asserrati con l'aereo ragazzi che altro vita che c'è l'antaraggio è venuto con l'antaraggio Ok ragazzi, siamo ritoriati, guardate! Ricordate che andiamo al mare, facevo un sacco di challenge, se non lo riserva, andate a guardare! Ragazzi c'è un sacco di vento a Porto Cesario, andiamo a mangiare la terrazza, guardate! Che bello! Io prendo la cotoletta, guardate le magnole, se ci vediamo! Guardate che bello! Ricordate, guardate! Mamma mia! Non mangi, non è così che lo so, o se lo mangio o se lo mangio, poi vi farò sapere! Ok? Visto, mangiando il vino, visto! Eh, saluta! Eh, lo saluto già! Oh no ragazzi, sono ritoriati! Ho messo i capelli, non si messi male! Sono tutti risordidati! Ora vado a fare colazione, però, con delle buonissime gocce! Se le conoscete, scrivetelo sotto i commenti! Ciao ragazzi, sono Vipro e Salai, oggi sono qui! Ciao ragazzi! Sono bellissime gocce! Guardate il mare con le onde! Un sacco di vento! Io ho, frio, mi spezzate lì! Opressi! Orfe! Io, dovete, vedete se capo il mio capelli con le onde! Guardate! Guardate! C'è il capelli, c'è il capelli! Che bello! Che bello! stra bello stra bello ragazzi è ancora ragazzi se andate dentro ti anneghi ciao papà ciao 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 guardate oh sono una scemia oh guardate vediamo qui che è più facile qui metti un piede qui poi si arrampi di questo e le tacche qui eccoci si arrampi di questo albero faccio oh ragazzi siamo arrivati bello c'è il mare quelle onde c'era un po' amico ho gioco allora ora ragazzi io vorrei chiamarmi i viperini perchè vipercialla pure ha un nome piccolini vuol dire viperini quindi ciao viperini scusatevi al canale guardate quello che corre ma che ci fa lì in questo 2008 60 80 80 80 80 80 80 80 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' bellissimo. Poi ci sono scritte delle cose. Sapete che in questo albero se prendi una chiave con la punta della chiave puoi scriverci sopra. E diventa verde. E' come un penarello verde. Perché dentro all'albero c'è il muschio. E questo è il muschio. Bellissimo. Ragazzi, guardate, stiamo salendo. E' bellissimo. E' bello. Guardate la mia maglietta. E' patrini nuovi e scherpe nuove. Guardate che bello. E' la cia con nuova rosa. E' bellissimo. E' bellissimo. Guardate che bello tutto. E' bellissimo. Ragazzi, qui c'è il castello molto più bello del jet rin. Lo so, non lo sappiamo. Scrivete sotto i commenti di questo cappello. E' bellissimo. Guardate. Ora vado sopra. C'è un sacco di vento. Quindi devo fare attenzione. Ragazzi, c'è una porta. Venite. Vi faccio vedere e poi vi torniamoci. Guardate. Iscrivetevi al canale. Tivate la campanella. Ci vedete sotto il video. Se mi piace questo posto. La posto è grande. La pandemia. Venite. Iscrivetevi. E' che vi arrabbio. Chiamate. Vedete. Oddio, che cos'è quella porta? Oddio, che cos'è? Qualcuno ha visto? Scrivetelo. Cosa c'è dentro? Ci vuole una chiave. Per aprire. Non ci credo. Che bello. Le stanze ci sono. Ragazzi, siamo a Lecce. Guardate. Che bello. Pino di ristoranti. Iscrivetevi al canale. È stato un bel like. E ti vedrai la campanella. Ok. Che bello. Ragazzi. Ragazzi, guardate. È stato un bel like. Bellissimo. Wow. Siamo a Lecce. Guardate. È un po' pite. È fatto a cuore. È stato un po' pite. che se l'avete a casa. È bello. Ciao. Ragazzi guardate questo ristorante Questa è un ristorante ragazzi questa è piazza uomo ragazzi questa è la piazza d'uomo guardate lì c'è una cesa che lì devono ancora costruirla iscrivetevi al canale bellissima ragazzi che bello stare in piazza c'è una sola posta lì bellissima ora dove prendere questa riscaldi guardate che bello guardate che bello bello bellissima non sono solo due dati non sono solo due dati non sono 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 due dati a piazza bellissima con la sabbia guardate bellissima un po' di cesareo wow sono sono c'è una taxi guardate ho fatto un po' di partite il piede poi c'è una gallina guardate 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 è bellissimo il mare ragazzi ragazzi sto mangiando del buonissimo pizza è il torna capo di cesareo sul tramone E siamo qui ancora nella spiaggia Lì c'è l'isola dei turisti Qui ci sono le parche Le ho anche Un video Bellissimi Guardate quanto è bella Un'acqua un'acqua C'è Un bel istituto Che è Un po' più a questa spiaggia Guardate lo che Sotto La spiaggia Ragazzi ora è il trend Guardate C'è Ora si parte I ciccetti Guardate che bella Arancione Bianco Iscritto Tutti stanno entrando Allora stanno scendendo Poi Queste persone che vedete Entreranno Nel ciccetti Nell'aerio Ora siamo Che are Aeroport Cos'è Non mi ricordo più Comunque siamo qui Pieno di ciccetti Poi ci sono due bar Sbricati Poco Amore Si parte Bella Mi bella Mi bella In casa L'equipaggio a bordo Per la vostra sicurezza Manca per l'inferma Il tempo di volo È un'ora e 30 minuti La diseggia Ragazzi Si parte Guardate Siete gentilmente pregati di prestare attenzione ai segnali luminosi e alle istruzioni fornitevi dal personale di bordo Guardate c'è il signore La scheda di sicurezza situata nella tastiera stabile di fronte a voi Contiene informazioni importanti riguardanti le uscite di emergenza Bellissimo Quando partiamo velocissimo vi faccio vedere dopo Simone andiamo sulla luna Prendiamo la borsa ancora più piccola Che bello Bellissimo Ragazzi Porta, porta 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 Ragazzi siamo arrivati! Ragazzi sono stati tre giorni fantastici, bellissimi, ci vediamo al prossimo video, ciao!